Dopo tanto lavoro considero quella di oggi davvero una grande vittoria, un risultato importante per semplificare la vita di tanti cittadini che convivono con il proprio animale domestico e per creare una nuova cultura di amore e di rispetto nei confronti dei nostri piccoli amici. Aprire le porte dei propri esercizi commerciali agli animali domestici non è solo un segno di grande sensibilità ma anche di lungimiranza perché vuol dire offrire maggiori servizi alla propria clientela e certamente aumentare il giro di affari. Non è più il tempo di assurdi divieti, i cartelli io non posso entrare devono scomparire, noi ci rendiamo interpreti delle istanze di milioni di italiani che convivono con il proprio animale domestico e vogliono poterlo portare con sé ovunque. La nostra iniziativa di oggi rappresenta davvero la prima nel suo genere e io sono certa che tante altre catene di supermercati vorranno seguire questo esempio virtuoso aprendo le loro porte ai clienti con il proprio cane o il proprio animale domestico al seguito e magari proprio come succede in questo bellissimo negozio offrendo anche la possibilità di trasportare gli amici più piccolini in comodi carrelli. L'iniziativa fatta per i nostri amici animali parte con 17 dei nostri negozi e piano piano la espanderemo in tutta la nostra rete. Contiamo di raggiungere il numero massimo di punti vendita possibile perché abbiamo 300 negozi associati che credo accoglieranno benissimo questa proposta e che oggi sia solo l'inizio.